La domanda riguarda il perdono di Dio in una persona peccatrice e la prima cosa che dobbiamo ribadire quando ci nascono delle domande di questo tipo è che Dio è Dio e che bisogna lasciare a Dio di fare il suo mestiere sia nella vita delle persone sia alla fine della vita delle persone. La domanda seria è quando siamo noi implicati in questo atteggiamento cioè quando in un atteggiamento di peccato noi sentiamo la tentazione ultimamente di prendere in giro Dio e allora questa domanda cosa ne sarà di me diventa uno stimolo uno stimolo per ricorrere alla confessione in maniera autentica confidando non in noi stessi ma confidando primariamente nella sua bontà perché da soli noi non ce la facciamo a passare da un atteggiamento da uno stato di peccato a uno stato di grazia o uno stato di santità. Gesù ce l'ha detto nell'ultima cena nel testamento spirituale che ci ha lasciato ci ha detto usando i suoi paragoni presi dalla vita della terra voi siete come un rametto della pianta della vite se il rametto rimane attaccato alla vite porta buon frutto dei buoni grappoli se si stacca secca secca ma appunto cosa avviene quando un rametto rimane attaccato alla vita e porta buon frutto e naturalmente lo porta con tutte le sue capacità le sue energie la sua buona volontà la sua intelligenza la sua affettività ma in realtà la linfa la linfa viene dalla pianta tutto ciò che di buono di bello e di vero noi facciamo viene dallo spirito santo donatoci da gesù lo spirito santo è la linfa gesù è la pianta della vite noi il rametto per cui anche gli atteggiamenti di conversione prima di essere frutto della nostra libertà sono originariamente spinta da parte dell'amore di dio che si concretizza in tutti gli aiuti che lo spirito santo ci dona a partire dai sacramenti sacramento della penitenza sacramento dell'eucaristia fino alla direzione spirituale fino al consiglio di un amico ecco così via l'importante è non lasciarsi vincere dalla disperazione anche quando la tentazione è forte e ci fa ricadere nel peccato e ci sembra di prendere in giro dio non diamo retta a questo che è tentazione il demonio fa esattamente un po questo bisogna essere capaci di accantonare questa tentazione e dire io da solo non ce la faccio a vincere il male ma con l'aiuto dello spirito di gesù cristo riesco a vincere il male questo ce l'ha insegnato soprattutto quel grande santo che è san paolo nella lettera ai romani al capitolo settimo lui quasi si confessa la prima persona singolare però quell'io di cui parla non è semplicemente lui è ogni uomo e dice io vorrei fare il bene ma non ci riesco e invece detesto il male eppure continuo a commetterlo chi mi libererà dice da questo corpo votato alla morte e alla fine non cede alla disperazione ma cede piuttosto all'affidamento gesù cristo gesù cristo attraverso il suo spirito mi darà questa forza di combattere e di vincere contro le tentazioni e contro il male e questo l'atteggiamento più evangelico che gesù stesso ci ha insegnato per spingerci verso quello che poi san paolo dirà con le sue categorie la giustificazione la giustificazione è in virtù della fede la il diventare giusti al cospetto di dio ha come passo principale l'affidamento nelle mani di dio grazie della sua domanda grazie a tutti